Adesso invece parliamo delle cose fungibili e delle cose infungibili. Allora, le cose fungibili sono cose che sono prese in considerazione con riguardo al peso, al numero e alla misura. Sono cose a cui caratteristica principale è il fatto di essere surrogabili l'una all'altra. Sono cose altrimenti dette di genere, dove però la surrogabilità, cioè il fatto di poter essere sostituita l'una all'altra, riguarda lo stesso genere. Ci sono cose fungibili, anche di genere diverso, che però non sono surrogabili l'una all'altra, per il genere diverso, cioè sono surrogabili solo con riguardo allo stesso genere. Allora, per capirci, l'espressione latina è in pratica Resque pondere, misure, numero, misure. Quindi Resque pondere, numero, misure, consistent. Forse ho sbagliato il termine consistent, non è proprio constituent. Vabbè, Resque pondere, numero, misure, consistent, cioè cose che consistono nel peso, nel numero e nella misura. Cioè, sono cose fungibili, che acquistano rilevanze giuridiche, che vengono considerate tali con riguardo al peso, al numero e alla misura. E quindi non con riguardo alla loro specifica individualità, ma riguardo proprio al peso e al numero e alla misura. E sono surrogabili, dicevamo. Un surrogato, ad esempio, la margarina è un surrogato del burro, cioè è una cosa che può sostituire la funzione comunque tipica della margarina. Quindi surrogabili significa che possono essere sostituite l'una all'altra, no? Sono surrogabili però per genere, nel senso che noi abbiamo, oggi diciamo, viene considerata la margarina, non so, un surrogato del burro. Nei fatti, diciamo che, appunto, cose fungibili potrebbero essere, ad esempio, la farina, il grano. Quindi è chiaro che la farina non viene considerata nella sua individualità di granello. Viene considerata in base al numero, diciamo, al peso o alla misura, cioè al numero no, la farina, diciamo, riguardo al peso o alla misura. Altre cose magari riguardo al numero. Però cose fungibili sono cose che vengono prese in considerazione riguardo al peso, al numero o alla misura. Quindi, ad esempio, un sacco di farina o un chilo di farina, a prescindere dall'individualità specifica dei granelli di farina. Quindi se io, il fatto che sia un surrogabili significa che sul piano della rilevanza giuridica, un sacco di farina può tranquillamente sostituire un altro sacco di farina. Però, quindi, se mi danno, diciamo, se io compro un sacco di farina non importa che dentro ci sia quella farina specifica, cioè non è riguardo all'individualità dei granelli di farina che acquista rilevanza giuridica. La rilevanza giuridica si ha riguardo al peso, al numero o alla misura, cioè un sacco di farina mi danno un sacco di farina, un chilo di farina, compro un chilo di farina e mi danno un chilo di farina. Se do, appunto, la rilevanza giuridica si ha anche rispetto a certe tipologie di negozi giuridici o di istituti. Per cui nel mutuo io do una cosa, diciamo, una cosa a prestito e per contratto mi devono ridare non la stessa cosa, cioè io do, non so, un chilo di farina mutuo e poi mi restituiscono un chilo di farina. Però non importa che sia la stessa, lo stesso chilo di farina che io ho dato, no? Perché anzi, in genere, quella sarà già stata consumata. La stessa cosa vale, appunto, per, diciamo, il denaro. Anche il denaro è un bene fungibile, in quanto, diciamo, viene preso in considerazione rispetto alla quantità di denaro. Quindi non rispetto al farina. Se io presto 100 assi a qualcuno, poi esigo che mi siano restituiti 100 assi, ma non gli stessi che gli ho dato, no? Perché quelli saranno stati spesi. Quindi vedete che la rilevanza giuridica si ha con riguardo al numero, al peso, alla misura. Quindi nel caso della farina, al peso, o nel caso del denaro, al numero. In altri casi, magari, non so, nel caso di, non so, una metratura di stoffe, magari con riguardo alla misura. Quindi vedete come, appunto, vengono prese in considerazione con riguardo all'aspetto della quantità, all'aspetto quantitativo, in particolare il peso, numero, misura. E siano, diciamo, surrogabili, quindi una cosa sia sostituibile all'altra, con riferimento però al genere specifico. Perché se io do, diciamo, se esistono invece, quindi non tanto con riguardo al bene, non è surrogabili riguardo al bene, alla tipologia di bene, ma riguardo al genere specifico. Perché un bene può avere diversi generi. Ad esempio, ci può essere una farina, magari, più pregiata, ma adesso, magari, le farine no, però. L'uva, magari ci può essere un'uva più pregiata e un'uva meno pregiata. E quindi, chiaramente, se mi danno un chilo d'uva meno pregiata, vale di meno. E quindi, diciamo, che sono surrogabili, dunque, sostituibili solo con riguardo allo stesso genere. E anche, diciamo, tutte le cose fungibili non è che siano sostituibili l'una all'altra. Ci sono diversi generi, quindi, uva, sale. Se mi danno un chilo di sale, non è come se mi dessero un chilo d'uva. Quindi non sono surrogabili per generi diversi, le cose fungibili. Però sono surrogabili per lo stesso genere e specie. Quindi, lo stesso genere, uva, e la stessa specie, quindi, l'uva più, diciamo, più pregiata o meno pregiata. Ecco, in questo caso, se la cosa corrisponde allo stesso genere e specie, può essere sostituita tranquillamente sul piano, invece, appunto, con la semplice considerazione, sul piano quantitativo. Mentre invece, le cose infungibili, dicevamo, sono cose che si caratterizzano per il loro aspetto individuale. Quindi ogni cosa infungibile è diversa dall'altra. E quindi non sono sostituibili l'una all'altra, nemmeno, diciamo, se appartengono allo stesso genere. Quindi tenete presente che, oggigiorno, ad esempio, per fare un esempio, la macchina appena uscita dal concessionario, nuova, può essere un bene fungibile perché puoi sostituire una macchina della stessa marca, modello, colore, eccetera, con le stesse caratteristiche, perché ha lo stesso valore economico. Quindi la destinazione economica è la stessa. Viceversa, una macchina usata, anche se appartiene allo stesso modello, magari può differenziarsi rispetto ad un altro. Se io la vendo, la destinazione economica può variare, perché magari uno, diciamo, in un caso è più rovinato, nell'altro è meno rovinato, oppure il motore non funziona, e quindi la destinazione economica della cosa infungibile può essere diversa. E pertanto una macchina usata, anche se è lo stesso modello, può essere venduta a un prezzo più o meno elevato. E diventa a quel punto, invece, un bene infungibile che assume delle sue caratteristiche peculiari, perché magari io vendo, diciamo, possono essere uguali due pande, uscite dal concessionario Fiat appena assemblate, possono essere diverse due pande, diciamo, che appartengono allo stesso genere, perché sono proprio lo stesso specifico modello, ma una l'avendo, cioè, so, qualcuno ci ha vomitato sul sedile, adesso per non fare un esempio scabroso, però chiaramente il sedile era di pelle, magari si è rovinato, quella, diciamo, diventa un bene infungibile nella misura in cui assume delle sue peculiari caratteristiche che possono aumentare o meno il valore, ne possono mutare eventualmente anche la destinazione economica. All'epoca del diritto romano, chiaramente, anche, non so, una cosa, un bene potrebbe essere infungibile, e pur appartenendo allo stesso genere, non era sostituibile l'uno all'altro, perché il bene è tale, considerato infungibile, se assume delle sue caratteristiche peculiari, specifiche, che lo rendono una cosa unica. viceversa, dicevamo, suppiando la rilevanza giuridica, anche questa distinzione, diciamo, appare particolarmente importante, perché, ad esempio, nel caso del mutuo, ad esempio, abbiamo visto come potesse essere oggetto del mutuo una cosa fungibile, anzi, non avrebbe potuto essere una cosa infungibile, perché se io devo dare, diciamo, da una cosa mutua, e poi mi deve essere restituita una cosa appunto della stessa genere e specie, per la stessa quantità di cose dello stesso genere, mi può essere restituita solo una cosa, non posso dare a mutuo solo, può essere oggetto di mutuo solo una cosa fungibile, mentre invece, viceversa, un altro istituto dove acquista la rilevanza, la distinzione tra cose fungibili e infungibili, in particolare, dove oggetto di quell'istituto può essere solo un bene, e invece, cosiddetto infungibile, può essere, ad esempio, il comodato d'uso, quindi io do presto una cosa affinché qualcuno la utilizzi per un determinato periodo di tempo, e dopo che cosa succede? Che quella che, diciamo, il comodatario mi deve restituire esattamente quella cosa, e non un'altra dello stesso genere e specie, quindi non è sostituibile, vedete, la cosa infungibile, perché se io presto una bicicletta, o comunque se presto, sì, va beh, insomma, se presto un cavallo, mi deve essere restituito esattamente quel cavallo, e non è che mi, diciamo, alla fine del periodo di comodato d'uso mi possono restituire un altro cavallo, così, perché si sono tenuti quello, oppure quello l'hanno azzoppato, e mi restituiscono un altro cavallo, perché tanto un cavallo l'ha l'altro, no, perché ogni cavallo può avere, diciamo, delle peculiarità, delle particolarità differenti, quindi un bene infungibile, adesso poi magari mi sbaglio, sul piano del cavallo, un particolare che magari poteva anche essere che un capo volesse l'altro, però, per, diciamo, fare un esempio, e farvi capire la differenza tra cosa fungibile e cosa infungibile, la cosa infungibile può essere sostituita l'una all'altra per lo stesso genere e specie, la cosa infungibile non può essere sostituita l'una all'altra perché assume delle particolarità, delle peculiarità tali, per cui, sotto il profilo della rilevanza giuridica, è importante che si tenga in considerazione che oggetto, diciamo, del rapporto deve essere esattamente quella cosa, quindi se io do, appunto, incomodato d'uso una cosa, vediamo, ad esempio, il cavallo, mi deve essere istituito esattamente quel cavallo, perché magari un cavallo può anche essere, appunto, più sano di un altro, più, un cavallo può essere, diciamo, oppure magari, tenete presente, un cavallo, generalmente, di una certa razza, magari può essere, diciamo, sostituibile, magari, uno all'altro, però, ci può essere, si tenere in considerazione la particolare affezione che magari il proprietario ha nei confronti di quel cavallo, oppure, viceversa, anche il fatto che quello è un cavallo, in realtà, da corsa, dalle prestazioni particolarissime, per cui, diciamo, se mi dai un altro cavallo, bolso, che non riesce neanche a correre, chiaramente non è la stessa cosa, quindi, ogni, diciamo, cosa fungibile ha una sua particolarità, che la rende unica, e, pertanto, se è oggetto di un rapporto giuridico, si deve tenere presente che l'oggetto della restituzione dovrà essere proprio quella cosa specifica e non un'altra. Viceversa, le cose fungibili sono sostituibili l'una all'altra, quindi, con questo chiudo, perché mi sono già, diciamo, stato abbastanza prolisso sul piano della classificazione tra cose fungibili e infungibili, ma, ricordatevi, appunto, caratteristiche generali. Cose fungibili, cose surrogabili, e, diciamo, prese in considerazione per peso, sul piano quantitativo, con riguardo al peso, al numero e alla misura, e cose, appunto, sostituibili, quindi, prese in considerazione, diciamo, sul piano delle cose generali speciali, cose infungibili, cose che rivestono, appunto, che sono specifiche e non sono sostituibili l'una all'altra.